Il nostro controllo non è maledurazione Io sono in tempo reale Cante, proti Non lo ricordo ancora Quindi non vorrei che ci pensasse che portasse il video al governo Era solo per dirlo così, in amicizia Che da quello appena c'era, no, non mi fate mai il programma se non cante il governo C'è proprio, cante poi prima puntata, seconda puntata mi ricordo a proti Possiamo chiedere ai nostri collaboratori se ci ha perso quando cante il governo Eh sì, perché è importante, no, dobbiamo capire Niente da fare Niente da fare Niente da fare Resistiti Resistiti La 201 201 Deve arrivare? La 300 Eh Se scopri Ecco Ah È mia madre ci siamo c'è mezzo a controller c'è il controller c'è il controller io l'ho voluto fare una cosa in sordina ma non è possibile ecco è arrivato più in più con l'anno sai novità? che tanto qualsiasi cosa succeda tu stai in mezzo grazie a tutti grazie a tutti